Il presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni ha dato comunicazione al Consiglio regionale in merito alla decisione sulla programmazione europea 2021-2027. Nei prossimi sette anni la Toscana avrà 1 miliardo e 229 milioni dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 1 miliardo e 83 milioni dal Fondo sociale europeo e 143 milioni di euro da un altro stanziamento dell'Europa, il programma europeo Italia-Francia-Marittimo. Ma io ritengo che obiettivamente chi guarda le vicende della politica e si rende conto che il presidente Eugenio Gianni arriva con una contrattazione fatta duramente, con costanza, per vicacia sia a Roma sia a Bruxelles e rispetto ai fondi europei 2021-2027 noi abbiamo a disposizione sui 4 fondi 3 miliardi e 3, insomma ritengo che sia stato un grande successo. È evidente che si tratta di 4 fondi e quindi naturalmente in primo luogo quello più importante, il Fesre, il Fondo europeo di sviluppo regionale. In questo caso noi abbiamo davvero nel miliardo e 2 del Fesre tutte le condizioni per poter operare come in rescita la voce divisa dello stanziamento, un'Europa più intelligente, un'Europa più verde, un'Europa più connessa, un'Europa più innovativa e in questo caso noi ora definiremo bene quelli che sono i progetti ma abbiamo rispetto a Recovery Fund la certezza che queste sono le quote per le regioni e quindi ce le gestiamo in regione. Sul Fesre noi puntiamo molto sui fondi per lo sviluppo, l'investimento, l'adeguamento delle imprese e devo dire che pioveranno sulle imprese in Toscana più di 500 milioni in questi sette anni. Contemporaneamente puntiamo molto sull'altro, il secondo fondo, il Fondo sociale europeo per arrivare a quell'obiettivo che io mi prefiguro fra un anno o due di una bella quantità di risorse per garantire alle famiglie che hanno 30, massimo 40 mila euro di reddito annuo o la possibilità dell'asilo gratis per i loro bambini, che vi è in questo fondo sociale europeo tante risorse per quello che sono i fondi per l'occupazione, le politiche attive del lavoro. Devo dire che poi su quello che riguarda i fondi europei noi metteremo e tramvia per le piste ciclabili, per mezzi ecologici e vi sarà quel respiro che consente anche da un punto di vista di investimenti infrastrutturali per l'innovazione di avere tante risorse per poter consentire alla pubblica amministrazione di rinnovare quelle che sono le forme di rapporto con il cittadino proprio puntando sulla infrastrutturazione digitale. Si tratta di risorse importanti, le priorità sono quelle di aiutare la Toscana a ripartire dopo la pandemia. Ovviamente dovremo agire sui settori che sono trainanti per la Toscana che sono quelli dell'export ma anche quelli che invece vanno ad agire su un mercato che è rivolto alla domanda interna che ha bisogno comunque di recuperare e di essere rilanciata. La cosa importante è che queste risorse che comunque aiuteranno alla transizione verso un'economia maggiormente sostenibile, verso la digitalizzazione, per una migliore sanità, per una maggiore coesione sociale e quindi servizi che sono rivolti alle popolazioni più bisognose ad iniziare dalla popolazione anziana. Tutte queste priorità fa l'atto coincidono con le priorità che sono contenute nelle sei missioni del PNRR. Quindi sarà importante cercare di armonizzare gli interventi, quindi avere un quadro complessivo di finanziamenti da dirottare sui settori finanziabili con il PNRR e invece finanziare altri settori non riconducibili alle provvidenze del PNRR da finanziare con la programmazione ordinaria o con i fondi aggiuntivi 30 miliardi che il governo ha messo a disposizione. Quindi il ruolo della regione sarà importante in questo senso, creare un'armonizzazione nel prevedere gli interventi verso le priorità con la coerenza alla possibilità di utilizzo di questi fondi che sta alla fonte e importante sarà anche aiutare tutti i soggetti che sono competenti a fare progettazioni perché sia per quanto riguarda il PNRR sia per quanto riguarda i fondi europei sarà importante sviluppare una capacità propositiva, una capacità progettuale. Da questo punto di vista noi abbiamo sollecitato in passato la creazione di un fondo per la progettazione, siamo a sollecitarlo nuovamente perché è importante non soltanto individuare linee strategiche, non soltanto creare un coordinamento ma soprattutto aiutare la Toscana ad essere maggiormente operativa per cogliere queste risorse. Intanto sono arrivati tanti soldi che dalla comunicazione del Presidente andranno a sostegno. Io credo che è vero e giusto che si debba sostenere le imprese, le aziende, è nostro dovere ma è anche nostro dovere indicare dove la Toscana vuole arrivare perché non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica. Adesso abbiamo una macro area che è quella che viaggia intorno all'Arno e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare che è quella della costa e che non è assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macro area di Firenze e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa dove c'è la vera economia. Ecco noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare. La Toscana non ha bisogno di galleggiare, la Toscana ha talmente tante risorse che ha bisogno di tornare ad elevarsi a regione guida perché questo è quello che noi abbiamo all'interno della Toscana e questo deve essere il messaggio, un messaggio propositivo e non un messaggio esclusivo di sostegno che serve ma serve per poi dopo dare un indirizzo a tutto quello che deve essere l'economia della Toscana. C'è intanto un dato di fatto positivo che mi fa piacere sottolineare. Evidentemente chi ha preceduto questa giunta o non era così tanto capace di fare le trattative in sede europea o in sede di assemblea Stato-Regioni oppure non era in grado di spendere in maniera opportuna i soldi visto che il primo dato che ci è stato riferito è che la Toscana per i prossimi sette anni ha preso un terzo in più di fondi dall'Europa rispetto agli ultimi sette anni. Quindi il grande governatore Rossi che si vantava di avere questa grande capacità di concentrare fondi sulla Toscana ne prendeva un terzo in meno di quanto hanno preso adesso la nuova giunta. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Poi ci sono tutti i dati negativi e i dati negativi sono il fatto che la Regione Toscana è ancora lontana anni luce dalle regioni virtuose del nord sotto tanti aspetti. Ne dico una su tutti, si parla tanto di mobilità sostenibile, la Toscana ha l'8% di colonnine di ricarica elettrica diffuse sul territorio nazionale, la Lombardia ne ha il doppio. Il trasporto pubblico su gomma è ancora il trasporto pubblico predominante in Toscana nonostante sia la fonte maggiore di gas serra ed è ancora lontana anni luce la Toscana e la conversione sul trasporto ecosostenibile rispetto alle regioni virtuose del nord. Si parla di adeguamento di strutture alla normativa antisismica ma si parla soltanto di strutture sanitarie e ospedaliere che per l'amor di Dio hanno bisogno di essere adeguata ma non c'è una parola o una sulle strutture scolastiche. Noi abbiamo ancora scuole in Toscana che sembrano essere uscite dal libro cuore dell'Ottocento quindi c'è ancora tanto da fare. La speranza è che visto che sono arrivati tanti soldi, in tutto sono quasi 3 miliardi di euro da destinare alla Regione Toscana che questa giunta faccia le scelte giuste. Noi dalla prossima volta saremo in aula con decine di proposte e vediamo quanti di queste saranno recepite dalla maggioranza. Riteniamo che i fondi comunitari siano la forza del nostro agire, le risorse comunitarie certe queste sono sicure, dobbiamo programmarle, dobbiamo creare sviluppo, lavoro, consentire ai territori periferici di avere nuove opportunità, consentire alle grandi città di diventare città di carattere europeo ma soprattutto tenere fede ai nostri impegni rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto al sociale rispetto agli impegni culturali. Dobbiamo fare una Toscana che anche nella svolta ambientale sia protagonista a livello europeo che con queste risorse faccia uno scatto in avanti, richiamo di queste ore anche della richiesta dei giovani di avere più ambiente, una Toscana più innovativa e poi soprattutto infrastrutture e lavoro credo che siano i cardini dell'allocazione di queste risorse. Noi ci batteremo in questi anni per allocare queste risorse nel modo più congruo e utile per la Toscana. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, torna il Premio Innovazione Toscana, istituito dal Consiglio regionale con legge regionale nel marzo 2017 e organizzato con Confindustria Toscana per sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica e digitale delle imprese e per promuovere l'iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. Il premio è riservato a start-up e imprese private in forma singola o aggregata e persone fisiche con sede o residenza in Toscana. Si articola in quattro sezioni, start-up innovative, ricerca, sviluppo e innovazione digitale, brevetti, sostenibilità ambientale. Il riconoscimento riserva due premi in denaro per ogni sezione, 15.000 euro per il primo e 5.000 per il secondo classificato. È inoltre previsto un premio speciale di 5.000 euro riservato al miglior progetto realizzato da un'impresa giovanile, presentato in una qualsiasi sezione. Per la presentazione delle candidature c'è tempo fino alle 17 del 29 ottobre. Questa è un'idea nata qualche anno fa, nella scorsa legislatura, ed è nata con un obiettivo, quello di sostenere chi crede nel futuro, chi scommette nel futuro. È un piccolo sostegno economico ma è soprattutto un segnale di speranza. Se la pandemia ci ha insegnato e ci ha lasciato qualcosa, purtroppo, oltre alle tante persone che sono decedute e hanno perso la vita, ci ha lasciato la necessità di anticipare il progresso. O noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso oppure non riusciremo ad essere al passo con le altre grandi regioni d'Europa. La sfida grande che noi abbiamo voluto lanciare è alle ragazze e ragazzi toscani. Credeteci nel futuro e aiutateci a costruire una Toscana migliore, una Toscana all'avanguardia in Europa. È una sfida bella, una sfida difficile. Noi abbiamo università, centri di ricerca, tra i migliori d'Europa e dobbiamo costruire le condizioni perché quella innovazione, quella ricerca si trasformi in valore per il territorio. Ringrazio Silvia Ramondetta, ringrazio Confindustria Toscana per questo lavoro svolto insieme. Oggi l'obiettivo è di cercare il più possibile di andare nei luoghi della ricerca, nelle università e mandare questo messaggio forte. Voi scommettete sul futuro e sappiate che le istituzioni sono al vostro fianco. Qualcosa di grande, di bello, io racconto sempre il simbolo della nostra regione, quel Pegasolato che con le zampe sta nella storia, nelle tradizioni, nei valori, nella bellezza della nostra Toscana, ma con le ali vuole guardare al futuro. Quelle ali battono e possono portarci in alto soltanto se davvero si crea questo clima positivo e di speranza. Noi ce la mettiamo tutte e faremo la nostra parte. È un bando che si apre a tutte le imprese, a tutte le start-up innovative, a tutti i giovani imprenditori che scommettono sul loro futuro e che possono presentare i loro progetti, i loro brevetti e le loro idee fino al 29 ottobre. Quindi c'è un mese di tempo, non c'è nessuna fretta per presentarsi perché non è un click day. È un bando che appunto tende a premiare le eccellenze di questo territorio che ci sono, sono tante e vanno fatte emergere anche per riuscire a costituire una occasione di crescita sostenibile di questa regione, ma anche un'occasione di contaminazione tra imprenditori che dà origine sempre ai migliori frutti e ai migliori progetti di impresa. Sono quattro le sezioni di concorso, start-up innovative, brevetti, ricerca, sviluppo e innovazione digitale. Quest'anno la sezione speciale con orgoglio la dedichiamo al tema della sostenibilità ambientale che è centrale. C'è poi un premio speciale per i giovani, per il miglior giovane imprenditore. Si concorre presentando domanda sul sito di Sviluppo Toscana dopo aver scaricato tutta la documentazione sul sito premioinnovazionetoscana.it. Si aspetta la valutazione che verrà fatta da un punto di vista tecnico da Sviluppo Toscana e da un punto di vista qualitativo da una commissione di giudici esperti del settore industriale e del settore della ricerca. A dicembre, i primi di dicembre avremo gli esiti di questo premio che quindi distribuirà nove premi che possono arrivare dai 5 ai 15 mila euro e quindi sono anche un'occasione di riconoscimento economico al valore delle imprese. Dare un premio per l'innovazione per noi è importante perché non c'è dubbio che abbiamo bisogno di innovazione e di talenti. La risposta è semplicissima, anche se non è facile poi individuare talenti. Noi lavoriamo e Digital Innovation Hub è proprio là che dovrebbero cercare le risorse per individuare poi talenti che facciano le scelte per il futuro. Si parla sempre di innovazione e cos'è l'innovazione? È saper cogliere le esigenze del momento, momento per momento, andare a individuare quello che occorre. In questo momento ce ne sarebbe bisogno di tante, basta pensare a quello che ci succede, la pandemia, i problemi dell'economia, quindi abbiamo certo bisogno di andare a individuare, fare ricerca per ottenere risultati per il sociale, per l'economia e per l'economia. Inaugurato al Centro Expo di Via De Pucci a Firenze, Scart, il lato bello e utile del rifiuto Dante e la Divina Commedia, progetto artistico del gruppo Hera, che celebra il settecentesimo di Dante, con grandi tavole e alcune sculture realizzate con materiali di recupero dagli studenti di tre accademie di belle arti di Firenze, Carrare e Ravenna e da alcuni ragazzi della comunità di San Patrignano. L'identità del rifiuto si unisce al padre dell'identità italiana, costruendo un legame dal grande valore artistico, un percorso di arte e cultura che grazie alle tre accademie di belle arti trasforma ciò che era scarto in opera e celebrazione. Così, arte e rifiuti, due mondi solo apparentemente distanti, si incontrano, si confrontano e disegnano un futuro utile possibile. Questo è un luogo che noi abbiamo voluto attrezzare e mettere a disposizione della bellezza della nostra comunità. Io sono emozionato entrando nel vedere come il messaggio potente di Dante si può attualizzare, si può attualizzare proprio per il tempo che stiamo vivendo. La potenza di quel messaggio arriva oggi e pensare che attraverso il riuso, il riciclo, il rutilizzo si possa costruire arte e cultura è qualcosa di enorme, di enormemente bello. Sapere davvero che noi possiamo lavorare tutti insieme nella direzione di costruire un mondo migliore è ancora più bello. Io sono onorato che oggi si inauguri questa mostra e spero davvero che possano venire tante ragazze e tanti ragazzi ad apprezzare la bellezza dell'arte, della storia, della cultura ma anche a capire fino in fondo che se ognuno fa la sua parte attraverso il riciclo, il riutilizzo si può costruire un mondo migliore. Questa è la sfida che noi abbiamo lanciato. Ringrazio ERA per la partecipazione e per la disponibilità e spero davvero che tante ragazze, tanti ragazzi, tanti uomini e tante donne possano venire ad apprezzare la grandezza di questo messaggio. Materiale di risulta e di recupero perché quando arrivano non sono pronti per un utilizzo di questo genere e qui sta l'abilità dei nostri giovani artisti perché per la massima parte sono ragazzi che vengono dalle accademie e che si dedicano molto volentieri a queste iniziative. Non sono iniziative recentissime perché tenga conto che il progetto ha una storia più che ventennale e quindi ce ne sono state nel passato che avevano un'ambientazione non così fiorentina nel senso che quello che forse è particolarmente importante di questa mostra è che la facciamo in casa della persona a cui era dedicata e quindi questo è un dato caratteristico, tutte le altre mostre avevano un rapporto meno esplicito, meno diretto e questo certamente impreziosisce l'essere qui a Firenze per onorare da un lato il grande poeta ma anche dall'altro quella che è la sua opera più famosa. Siamo molto soddisfatti di avere questa importante sede dove esibire il lavoro che è stato compiuto, raccoglie un po' anche tutte le caratteristiche dello sforzo che in questi vent'anni il progetto ha chiesto a noi come società sponsor diciamo ma soprattutto ai ragazzi che si sono andati con molta disponibilità a partecipare alla realizzazione di queste iniziative, le parlo al plurale perché ormai siamo arrivati quasi a mille prodotti della loro attività e quindi certamente questo è un elemento di ulteriore importanza che impreziosisce quello che vedete qui oggi. A me piace evidenziare la modernità e l'attualità del messaggio perché anche se si sta parlando di in questo caso di incisioni di Gustave Doré però interpretate dalle mani di tre accademie diverse quindi a questo progetto hanno lavorato l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, l'Accademia delle Belle Arti di Ravenna e di Carrara oltre a tre teste realizzate dai ragazzi di San Patrignano. Ecco si vede proprio si percepisce la mano, la cultura delle diverse accademie, mi riferisco per esempio alla testa di Dante realizzata dall'Accademia Fiorentina dove si vede una testa molto pop perché la concentrazione di molti rifiuti, di varie tipologie di rifiuti provenienti da tante attività industriali, a questa vicino a me dell'Accademia di Carrara realizzata con gli scarti delle scaglie di marmo, delle sculture che fanno in Accademia e l'ultima l'Accademia di Ravenna dove si percepisce benissimo la mano dei mosaicisti ravennati quindi tre culture di tre filoni diversi ma che rappresentano allo stesso modo un messaggio importantissimo. Grazie 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 Grazie